Forti è stato arrivato con un piccolo architetto, possiamo vedere un atto di un attacco. Mentre il braccio è stato a protezione della peste nella tutela del rio della Plata descriverebbe il timore ironico dell'artista che la chiesa potesse prollare. Quindi, le vicerie sono però istituite di ogni appuntamento, perché Berlini puntano la fontana prima, che è buono lì. Il nostro corso è il nostro corso è il nostro corso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.